Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Morti neonatali all'annunziata di Cosenza, l'azienda ospedaliera risponde con un comunicato stampa. Controlli estivi a Tropea, oggi il reso conto del comandante. Salta a causa del numero legale non raggiunto il Consiglio Comunale di Taurianova ma si ripresenta l'ex sindaco della cittadina del Regino. Ottimo il bilancio per la Calabria al Salone del Gusto di Torino. Immigrazione e differenza di genere se ne è discusso a Vibo, Valencia. Attraverso un comunicato stampa dunque il collegio di direzione dell'azienda ospedaliera di Cosenza ha puntualizzato in merito alle polemiche dagli attacchi apparsi su alcuni organi di stampa online sulla morte dei due neonati verificati nei giorni scorsi. Sentiamo. Il collegio di direzione dell'azienda ospedaliera di Cosenza in merito alla morte di due neonati deceduti nei giorni scorsi, uno per shock settico ed un altro morto nell'utero della madre, intende fare chiarezza nei confronti di alcune polemiche di attacchi apparsi su alcuni organi di stampa online. Per quanto riguarda il primo caso, il cui contenuto è già stato smentito in parte dalla direttora del Dipartimento Materno Infantile che mette in correlazione la morte di un neonato per shock settico con la presenza di un pipistrello nei corridoi dell'ospedale, bisogna precisare che il reparto di terapia intensiva neonatale è un reparto chiuso. Viene sottolineato nel comunicato stampa con un sistema di ventilazione controllata in cui l'aria viene filtrata prima di essere immessa nella terapia intensiva. Nel caso in specie poi il neonato in condizioni di estrema gravità era ricoverato in terapia intensiva in una termoculla con aria a sua volta filtrata e completamente isolato dall'ambiente circostante. Nella nota viene inoltre precisato che non tutte le infezioni contratte in ospedale sono infezioni ospedaliere anche se possono portare alla morte. Il piccolo era affetto da un'infezione contratta in utero essendosi manifestata nelle prime ore di vita in maniera così grave da richiedere un trasferimento urgentissimo senza l'attivazione dell'ambulanza dedicata al trasporto neonatale. Secondo le evidenze scientifiche del momento, prosegue ancora la nota, tutte le infezioni che si presentano entro le prime 72 ore con sintomi gravissimi sono da attribuire infezioni contratte in utero e trasmesse dalla madre. Mentre relativamente al secondo caso, quello del decesso in utero di un neonato, si precisa che la paziente si è presentata nel pronto soccorso generale alle 9.29 della mattina e da qui indirizzato all'unità operativa di ostetricia e ginecologia dove ha stazionato presentandosi al personale in servizio all'accettazione di pronto soccorso solo dopo 5 ore. Dagli esami effettuati successivamente è stata diagnosticata la premorte del feto per cui è stato sequestrato lo stesso e la placenta già prima dell'espulsione quando ancora era in utero. Per cui sempre secondo la nota a firma del collegio di direzione dell'azienda ospedaliera di Cosenza non risulta agli atti una precedente valutazione della vitalità del feto. Sarà invece l'esame autoptico a stabilire la eventuale morte dello stesso feto prima dell'accesso al pronto soccorso. Bisogna poi precisare che le cause note di morte intrauterina del feto sono da riferirsi a tutta una serie di patologie tra cui malattie congenite, infezioni, isoimmunizzazione, materno-fetale e tutte quelle situazioni in cui ci sia mancato apporto di ossigeno al feto come asfissia per la quale difficilmente era visabile una responsabilità professionale legata al momento dell'evento. Il pubblicizzare casi di presunta malasanità conclude il comunicato non fa altro che far crescere nell'opinione pubblica una sfiducia nelle istituzioni e aumentare la migrazione sanitaria che già costituisce una delle più gravi criticità della nostra regione. E ora ci spostiamo a Tropea dove il comandante dei carabinieri ha presentato alla stampa il resoconto delle attività estive di contrasto dei crimini e delle infrazioni. A fronte di un aumento esponenziale di presenze sul territorio nelle zone di competenza della compagnia dei carabinieri di Tropea sono diminuite le infrazioni al codice della strada e quanto emerge dal report illustrato dal comandante della compagnia durante una conferenza stampa nella quale sono stati anche analizzati i dati inerenti ai reati commessi nell'arco dell'intero periodo estivo. È uno dei dati che è emerso da questo periodo estivo che a fronte di un certo quantitativo di infrazione per l'uso di sostanze alcoliche fa di contraltare il dato zero come numero di infrazione per quanto riguarda la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. C'è maggiore attenzione quando ci si mette la guida? Sì, è un dato che è stato rilevato che in effetti comunque nonostante le enorme mole di persone che hanno fruito della strada nel periodo estivo soprattutto tra Tropea e Capo Vaticano c'è stato un certo contenimento sia nelle infrazioni per quanto riguarda appunto la guida in stato d'ebbrezza, la totale assenza di infrazioni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e anche un certo calo tendenziale di tutto quello che è stata le infrazioni anche riguardanti fenomeni antipatici come il mancato controllo per la sicurezza dei bambini durante la guida. Diminuiti pure gli incidenti mortali anche se il numero delle vittime rimane invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e che si sono verificati sempre lungo le stesse strade. La 522 che costeggia la costa e la 17 che permette di raggiungere la perla del terreno attraverso Monteporo. Due arterie fondamentali all'interno del sistema aviario provinciale ma che forse non rispecchiano gli standard di sicurezza auspicabili per il traffico che devono sostenere. Noi comunque stiamo operando un'attenta opera di monitoraggio sulle strade facendo dei posti di controllo, posti di blocco in modo il più possibile di cercare di garantire la salute e l'incolumità dei fruitori della strada. A Taurianova dopo otto mesi di assenza alla minoranza l'ex sindaco Roy Biasi si presenta in consiglio. La mancanza del numero legale per l'uscita fuori dalla sala dei consiglieri di opposizione ha fatto saltare la seduta del consiglio comunale di ieri sera a Taurianova. Ma la vera notizia non è tanto questa quanto il ritorno, o meglio dire, visto la lunga assenza dai banchi della minoranza, ben otto mesi di lontananza, dell'apparizione in aula del consigliere Roy Biasi. L'ex sindaco della cittadina pianigiana, leader indiscusso fino a qualche tempo fa del centrodestra Taurianovese, lancia un segnale alla politica. Lui c'è ed è vivo politicamente. L'assenza dalla scena politica per lungo tempo aveva fatto pensare a un suo totale disinteresse e da un graduale allontanamento. Ma evidentemente non è così. Forse il richiamo delle elezioni regionali del prossimo anno potrebbero essere un obiettivo e uno stimolo per l'ex primo cittadino. Bisognerà capire questa volta con quale partito. L'ultimo approdo era stato in Fratelli d'Italia, prima ancora Forza Italia e dopo un breve passaggio nella formazione di fitto direzione Italia. Venuta meno la candidatura nel partito della Meloni, c'è stato l'abbandono. Un anno è un tempo sufficiente per ritornare a far parlare di sé con attività e azioni politiche e la visibilità che può dare il Consiglio Comunale è importante per un rilancio politico dell'ex sindaco. Sta di fatto che ieri la mossa di Biasi di invitare i consiglieri di opposizione ad abbandonare Laura era stata preventivata dal Presidente del Consiglio Comunale, Fausto Siglari, dal momento che per la prima volta ha stabilito anche una seconda convocazione dell'assise. Nella seduta lampo del civico consesso si è fatto in tempo a discutere solo l'interpellanza del consigliere sposato in merito alla stabilizzazione dei lavoratori LSU-L+. A tal proposito il sindaco Fabio Scionti, che prima del Consiglio aveva incontrato i sindacati, ha spiegato che non sarà verosimile stabilizzare tutti, ma solo 6-8 lavoratori sui 35 in totale. La presenza calabresi al Salone del Gusto di Torino Terra Madre ha avuto un bilancio decisamente positivo. Il Salone del Gusto di Torino ha confermato quella che è una tendenza per la Regione Calabria, ovvero una crescita del comparto agricolo ed agroalimentare ed un'autorevolezza anche crescente. Tanti i visitatori che hanno apprezzato le tipicità calabresi, ma anche gli addetti ai lavori, che continuano a porre fiducia sui prodotti made in Calabria. Dunque un settore che cresce, affermandosi anche su mercati nazionali ed internazionali. Io penso che questo Slow Food sia stata l'edizione dell'affermazione della nostra Regione. Non abbiamo dovuto sottolineare niente di quello che abbiamo fatto negli altri anni. I visitatori sono venuti, le aziende che sono presenti, e sono circa 18, sono molto entusiasti e soprattutto per i contratti chiusi e per la grande curiosità dei prodotti. Prodotti che non solo soltanto curiosità, ma come dicevo prima, affermazione di un percorso che sta entrando nella sua viva maturazione. Una grande affluenza, una capacità assertiva e attrattiva, grande entusiasmo degli operatori, ma soprattutto grande entusiasmo delle persone che vengono a visitare lo stand come se visitassero una terra, una Regione che ha molto ancora da dare. Stiamo parlando di un asset fondamentale per la nostra Regione economica, che è l'agroalimentare. Un asset che costruisce, se vogliamo, nel tempo la vera risorsa economica di prospettiva della Regione Calabria. E cambiamo argomento, si è discusso di immigrazione e differenza di genere nell'ambito di un incontro organizzato a Vibo Valencia. Vediamo com'è andata. Rinnovato il direttivo che ha chiamato alla Presidenza Francesca Nacci, la sezione vibonese della GAM è ripartita realizzando da subito un primo evento dedicato alla delicata questione della protezione internazionale legato all'orientamento sessuale e all'identità di genere. A relazionare Donatella Loprieno, docente di diritto dei migranti all'Università della Calabria, che ha spiegato la disciplina del riconoscimento delle diverse forme di protezione internazionale. Rimane una questione comunque di politica internazionale, perché non riguarda solo la questione italiana? Certo che rimane una questione di politica internazionale. I richiedenti protezione internazionali fuggono generalmente da paesi in cui la loro vita è messa in pericolo o sono a rischio di persecuzioni. La politica internazionale, l'Unione Europea, ma anche il contesto internazionale dovrebbe, e usiamo ovviamente il condizionale, dovrebbe adoperarsi affinché le condizioni migliorino nei luoghi di partenza. Noi siamo chiamati ad occuparci prevalentemente della fase in cui i richiedenti protezione internazionale arrivano e con particolare riferimento ai richiedenti asilo per motivi di discriminazione in base al genere, che subiscono una discriminazione ulteriore rispetto a tutti gli altri richiedenti protezione internazionale. Giovanna Vingelli, direttrice del Centro Studi Women's Studies Mildiville, a sua volta ha fatto riferimento alle discriminazioni multiple a livello europeo, nazionale e locale e ai fenomeni della violenza di genere. La Convenzione di Ginevra del 51 non parla esplicitamente di discriminazioni di genere. E' ovvio che dal 51 ad oggi molte cose sono cambiate, c'è più sensibilità rispetto a questi temi, quindi quando parliamo di discriminazioni di genere parliamo di un ambito complesso che fa riferimento a tutte quelle discriminazioni che subiscono le donne in quanto donne, parliamo della violenza, parliamo degli stupri, parliamo delle mutilazioni genitali femminili, ma il termine genere è stato ampliato anche per includere le persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali, che anche se con numeri non chiaramente definiti perché c'è un problema di raccolta delle statistiche, comunque ci presentano insomma delle problematiche particolari spesso non riconosciute, anche perché ci sono ancora tutta una serie di stereotipi e pregiudizi intorno alle persone LGBT che fanno sì che ancora queste problematiche, soprattutto nel momento dell'arrivo, nel momento del colloquio, nel momento appunto di assegnazione di un'eventuale protezione internazionale o meno, vede ancora gli operatori e le operatrici un po' perplesse sul da farsi. Sono forti i pregiudizi e in una realtà culturale come quella meridionale parlare diventa anche più complesso? Diventa più complesso, più difficile, ci sono una serie di situazioni che la gamma ha già potuto riscontrare, abbiamo visto proprio la difficoltà di parlare, di riuscire a fare una integrazione attiva, reale, tra le diverse culture, insomma, nella prospettiva. Poi noi l'abbiamo cercata, l'abbiamo scelta di fare integrazione attraverso una prospettiva di genere, attraverso le donne, perché studiando, insomma, andando un po' nelle diverse università ci siamo un pochino mosse e abbiamo capito che negli ultimi studi l'integrazione passa attraverso il femminile. Ecco perché questa scelta di campo per cercare di essere più produttivi nella nostra azione. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie, buona serata a tutti voi.